Musica Lunedì 15 maggio, un buon inizio di giornata e di settimana da me e da Gianfrancesco Iagaruso in regia. Prima edizione del Tg che apriamo con le elezioni comunali, urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 nei 14 comuni chiamati alle urne per le amministrative. Intanto ieri alle 23 l'affluenza alle urne è stata del 47,71% contro il 62,97% registrato alle precedenti elezioni. Va ricordato tuttavia che in quella tornata elettorale si votò solo di domenica. Stavolta invece le urne resteranno aperte anche oggi fino alle 15. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio che Telemolisi eseguirà in diretta con collegamenti e risultati dai comuni in cui si vota. E cambiamo argomento, primi giorni di quotazione in borsa dell'azienda Recupero Etico Sostenibile, unica società molisana a Piazza Affari. Siamo soddisfatti per l'andamento del titolo, ha detto l'amministratore delegato Antonio Lucio Valerio. Questo traguardo ci riempie di emozione, lo ha intervistato Enrico De Simone. Vediamo. Il Molise è tornato a Piazza Affari. Primi giorni di quotazione in borsa per l'azienda Res, Recupero Etico Sostenibile dei fratelli Valerio Disernia. Il debutto è il 4 maggio scorso, 14 anni dopo il delisting dell'ITR. Andamento positivo per il titolo, entusiasmo e soddisfazione da parte dell'amministratore delegato Antonio Lucio Valerio. Siamo contenti del risultato raggiunto che siamo riusciti in questa operazione. Poi siamo una delle poche imprese che si occupa, che sta nel settore della circolare economy e quindi abbiamo delle buone aspettative sia per quanto riguarda la quotazione, sia per quanto riguarda l'andamento del titolo, sia per quanto riguarda gli investimenti che dobbiamo fare, tutto quello che è il programma, gli obiettivi che ci siamo posti. In Vitalia comunque ha preso una parte importante del capitale. Questa è stata fatta un'operazione tutta in aumento di capitale, la cosa più importante. In Vitalia è un partner che ha sottoscritto il 35% della quota di aumento di capitale, è un partner che comunque è strutturale, quindi potrebbe accompagnare l'azienda nella crescita. L'amministratore delegato parla con emozione del debutto in borsa con il tradizionale suono della campanella. È stata una grande emozione andare in un posto, comunque è il sogno di tutte le imprese, alla fine di qualsiasi sia là, è il sogno di tutte le imprese, quotarsi. Speriamo che ci dia ragione questa scelta che abbiamo fatto e che possa dare beneficio pure al territorio, perché comunque è anche grazie al territorio che abbiamo fatto tutto questo. Ora per RESS nuove sfide, continuare a crescere nel segno della sostenibilità. Oggi non vengono recuperate al 100% le plastiche, ma buona parte o vengono termovalorizzate, oppure eseguono altri percorsi. Chiaramente con questo nuovo impianto che andremo a realizzare l'obiettivo nostro è recuperare al 100% le plastiche e andare soprattutto non più nemmeno come materia prima, ma come prodotto finito. Quindi andare a industrializzare tutto quello che viene poi dal mondo della ricerca, perché a monte di tutto questo percorso c'è la ricerca che stiamo portando avanti e quindi i risultati della ricerca possono essere trasferiti a livello industriale, non più solo quindi come materia prima, ma come prodotto finito. Ed è tutto con la prima edizione del Tg, adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Partiamo da primo piano, qui si parla delle elezioni regionali. Roberti lascia l'ospedale, Iorio troveremo la sintesi. Stima reciproca con l'ex governatore, lui sarà fondamentale, è stato detto, e a gravina assicura lealtà. Il candidato presidente del centrodestra è stato dimesso ieri mattina dal Santimoteo. In questi giorni ho lavorato con lo staff alla pianificazione della campagna elettorale. Stiamo in tema politico, ci parla delle amministrative, affluenza in calo, ma non ha salcito seggi aperti anche oggi. C'è questa fotonotizia, scontro tra un'utilitaria e un SUV, ricoverati tre giovani, uno è grave, l'incidente all'alba di domenica al Bivio per Miranda, 23enne e in rianimazione. In altre notizie, quella di Spalla, Pesca, nuove regole, la Casanova dice Eurofollia, il piano d'azione con il divieto di Strascico. A Campobasso, adesso, zona traffico limitato, si arena l'Iter, strade del centro storico K.O. Interviene il consigliere Mario Annuario, pericolo per i misteri. Il punto porta la firma di Pasquale Damiani, occhio al test delle elezioni comunali. I titoli di sport, serie D, vera impresa del Termoli, espugna l'Aragona di Vasto e conquista la salvezza. Intanto si parla anche del Campobasso, i lupi ripartiranno dal direttore sportivo De Filippis. In panca piacciono Ferraro e Pergolizzi. Calcio regionale, l'Ururi retrocede, festa gioiese, brinda il Termoli 2016. Andiamo a vedere anche alcuni quotidiani telematici. Partiamo da Controvento, che si occupa delle elezioni comunali. Oggi i nomi dei 14 sindaci. Si vota fino alle 15 di oggi, in 14, dei 136 comuni molisani chiamati a questa ultima tornata delle amministrative. I centri più importanti sono Venafro e Larino, sedi di ospedali che stanno morendo, scrive Viviana Pizzi, che firma il pezzo. In tarda serata i nomi dei nuovi primi cittadini. Passiamo a Is News, che torna sull'argomento autismo in Molise. Nessun centro convenzionato con il servizio sanitario. Grido d'aiuto al ministro Locatelli, che vedete qui in questa grande foto, a parlare l'Associazione dei Genitori, che esprime solidarietà a mamma Carla. E scrive una nuova emissiva all'indirizzo della titolare del Dicastero per la disabilità, con l'auspicio di un incontro-confronto. Dunque questo su Is News. Ora ai quotidiani nazionali, qui gli argomenti sono diversi. si partono dalla visita in Europa di Zelensky, poi le elezioni in Turchia, ma anche l'ITZ e Fazio, che lasciano la RAI. Il Corriere della Sera, così in apertura, Kiev vincerà entro l'anno. Dunque, Zelensky a Berlino, dice siamo pronti all'offensiva, ci servono Jet, Schultz, Mosca si ritiri. Tour diplomatico, prima dello scontro decisivo. Il Papa intanto dice le armi distruggono la speranza. Dicevamo delle elezioni in Turchia, la corsa dello sfidante contro Erdogan, quindi Erdogan costretto al balottaggio. D'Italio centrale, Fazio e Letizetto via dalla RAI, Salvini dice belli ciao, nuovo contratto su Discovery. Questa notizia la troveremo un po' su tutte le prime dei maggiori quotidiani nazionali. Dunque, proprio con questa notizia apre oggi Repubblica, RAI a destra, Fazio lascia. Il conduttore passa a Discovery con l'Itizetto dopo il mancato rinnovo del contratto. Non tutti sono adatti per ogni narrazione, salvo detto. Salvini ironizza, dice belli ciao, il PD protesta e una sconfitta per il servizio pubblico. Oggi, intanto, il cambio dei vertici voluto dal governo. Ancora sulle pubbliche leggiamo Calderoli, all'Italia serve un governatore, Premier eletto come nelle regioni. Taglio centrale, l'opposizione, siamo in test, siamo testa a testa con Erdogan, la Turchia, dunque verso il ballottaggio che sembra proprio confermato. Andiamo a vedere anche la stampa. Meloni investe sulla guerra, ma così rischia l'atomica. C'è un'intervista a Conte, sbagliata la strategia con Kiev. Ascoltiamo il Papa. La Premier dagli Alpini rilancia l'idea della leva, una cosiddetta ferma breve e volontaria. Vertice della destra al San Raffaele. Erdogan al ballottaggio, anche qui, finale sul filo di lana nelle elezioni turche. Il leader uscente sotto il 50%. E qui, la vergogna della Rai, Fazio, via dopo 40 anni. Non ci sono uomini per tutte le stagioni. Va a Discovery, abbiamo visto insieme alla Lettizzetto. Il Fatto Quotidiano. Francesco le canta a Zelensky. Le armi distruggono la pace. Santa Sede irritata per il no di Kiev alla mediazione con Mosca. In alto, comunali, l'affluenza crolla di altri sette punti. Meloni e Salvini da Berlusconi. abbiamo visto che questa volta si vota anche il lunedì. Libero, libero, apre con un titolo ironico, riferito a Fazio e Lettizzetto. Che bel tempo che fa quelli che se ne vanno. Fazio e Lettizzetto, via dalla Rai, solo negli ultimi cinque anni sono costati 100 milioni. Di taglio centrale, parla il ministro degli interni, piante e dosi, 6 mila agenti in più per ripulire le città. Chiudiamo anche Libero e andiamo a vedere adesso il tempo che titola così con la frase di Salvini riferita a Fazio e Lettizzetto. Belli ciao con uno sberleffo Salvini saluta la coppia che ha deciso di andarsene e la solita sinistra si indigna fino a insultare il segretario della Lega difesa del centrodestra. Hanno perso il megafono e sanno solo offendere. Continuiamo con il sole 24 ore famiglie e rincari vacanze al tempo dell'inflazione 800 euro in più. Le fiammate dei costi di voli hotel e affitti fanno aumentare le spese per una settimana di ferie. Richiesta intanto boom per l'ospitalità di lusso. C'è un'analisi la domanda di beni e servizi sostenuta dal risparmio in fase di pandemia spinge la corsa ai prezzi. Si parla anche di giovani doppio aiuto per gli apprendisti. Nel decreto lavoro il nuovo incentivo al 60% della paga può sommarsi allo sconto sui contributi. Dunque questo sul sole 24 ore. Lo sport adesso domani appuntamento importantissimo di Champions in Milan si gioca tutto dunque domani il ritorno di Coppa perché il diavolo rischia l'inferno. Champions e quarto posto se va male molti in milico. Test Leao vuole esserci casa Inter e Nero Azzurri sognano l'Inter vuole tutto Inzaghi e le sei partite per entrare nella storia. Intanto andiamo a vedere cosa accade in casa Juve Pog e Crac stagione difficile per Pogba Calvario senza fine scrive la Gazzetta altro infortunio i dubbi della Juve stagione maledetta Pogba esce in lacrime alla prima da titolare. Torniamo sull'informazione regionale con il Corriano abruzzese il centro dedica spazio chiaramente alle elezioni comunali in Abruzzo dove vota un elettore su due la percentuale alle urne ieri alle 23 si è attestata al 50,21% oggi seggi aperti fino alle 15 in provincia di Pescara il primato va a bussi sul Tirino con 61,28% e poi questa grande foto gratta e vince 500 mila euro caccia al fortunato a Moscufo colpo grosso al Lumbar più in basso piano anti rumori consiglio a rischio quello di Pescara ancora scontro tra sindaco e fratelli d'Italia in quattro potrebbero disertare la seduta di oggi andiamo a vedere anche le pagine che si occupano di alcune delle aree territoriali siamo a Teramo dove si vota come è un comune capoluogo dove si vota l'affluenza è in calo alle 23 di ieri ha votato il 51,64% dei 45.985 elettori flessione di 15 punti rispetto alla tornata 2018 a Silvi la partecipazione più bassa in provincia 45,28% dati in discesa anche ad Alba e Atri vediamo anche qualche altra notizia morta in A14 appello del fidanzato il giovane di Montorio dopo l'incidente nelle Marche dice quel tratto è una vergogna più in basso invece il reggiro online truffati con le carte di credito conti svuotati a due professionisti per comprare ori e abiti siamo adesso alla pagina dell'area dell'Aquila Avezzano e Sulmona anche qui si parla delle elezioni di taglio centrale con questa foto attacco hacker si va verso una class action contro l'azienda sanitaria locale dati sensibili degli utenti nelle mani dei cyber criminali più in basso sorpresi a rubare in casa arrestati siamo all'Aquila l'allarme dato dai condomini del palazzo i due ladri bloccati dalla polizia e dunque questa è l'area di Avezzano passiamo alla pagina regionale del messaggero comuni al voto affluenza in calo a termo alle urne il 51% degli elettori 16 punti in meno rispetto al precedente turno si vota fino alle 15 di oggi poi via agli scrutini in serata l'esito attesa dunque a Silvi crollo a notarisco di taglio centrale bollette non riscosse finisce nel mirino l'ex giunta cialente siamo all'aquila inchiesta della corte dei conti avvisi all'allora primo cittadino e quattro assessori in alto c'è lo sport il calcio di serie D vediamo vastese dramma sportivo K.O. in casa e retrocessione all'Aragona padrone di casa in vantaggio prima della rimonta della Termoli tensioni alla fine ragazza ferita al volto da una bottiglia ed è stata ricoverata bene dunque queste le notizie di oggi ma è lunedì e prima di salutarci la linea va alla regia e alla redazione sportiva per gli highlights il pubblico delle grandi occasioni all'Aragona di Vasto dove va in scena il play out di serie D girone F tra l'Avastese ed il Termoli una gara che vale un campionato sarà ancora serie D per il Termoli mentre retrocessione nel campionato di eccellenza di competenza per l'Avastese ma andiamo con ordine partiamo dalla prima frazione di gioco con Monte Bugnoli che si fa gran parte della metà campo tutto solo al limite dell'area viene fermato solo da Uzzol per lui anche cartellino giallo punizione della Vastese se ne occupa D'Angelo conclusione di poco fuori il Termoli risponde con Carnevale che ci prova dalla distanza anche in questo caso la gara non si sblocca ma passiamo alla ripresa diagonale di Busetto che supera Arrecchia per l'1-0 della Vastese cross di Lorusso testa di Eluazni ed è 1-1 tra Termoli e Vastese al 92esimo di marzo vede Carnevale nel cuore dell'aria si sistema la sfera e realizza il gol che sarà anche del successo per il Termoli 2-1 il risultato finale all'Aragona esplode la gioia in casa basso molisana con il Termoli che mantiene la quarta serie nazionale Nel play-out secco la Virtus gioiese guadagna la salvezza battendo in casa l'Aurora Aururi per due reti a zero grazie alla doppietta di Nicolas Barone nell'ordine al diciassettesimo del primo tempo e al dodicesimo della seconda parte di gara gol che condannano l'Aurora Aururi alla retrocessione nel campionato di promozione il Termoli 2016 si aggiudica alla semifinale del campionato di promozione play-off raggiungendo la finale battendo per 4-3 dopo i supplementari la Esernia Fraterna che trova il vantaggio al primo vero affondo esattamente al ventunesimo sul pallone lungo in profondità allungato da Maglio D'Amico per Viespoli che salta il portiere Aceto e poi viene steso calcio di riguardo Mario della situazione di Campobasso e adesso è veramente tutto grazie per essere stati con noi buon proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti